Buonasera, ben trovati in questa seconda edizione del Tg6 che apriamo con la cronaca e lo facciamo con una nuova ondata di arresti purtroppo all'Aquila per i lavori legati al post-sisma. In manette sono finiti l'ex assessore comunale Roberto Riga e l'imprenditore Massimo Mancini, vicepresidente dell'Aquila Calcio. Nel mirino i lavori all'ex oratorio Don Bosco realizzati proprio dall'impresa Mancini. È una nuova bufera giudiziaria quella che si è abbattuta questa mattina sul capoluogo. Una nuova inchiesta, ancora una volta per presunte irregolarità nella ricostruzione post-sisma. Nuove arresti che riguardano due persone in vista della città. Si tratta dell'ex assessore dell'Aggiunta Cialente Roberto Riga e Massimo Mancini, costruttore e vicepresidente dell'Aquila Calcio. Per entrambi sono scattati i domiciliari, ordinati dal GIP Giuseppe Romano Gargarella. Al termine dell'inchiesta coordinata dal procuratore capo della Repubblica Fausto Cardella e dal PM David Mancini. Le indagini, portate avanti dai finanzieri del nucleo tributario, coinvolge anche funzionari ed amministratori pubblici. Tra gli altri reati contestati c'è anche quello di corruzione, mentre le misure cautelari, stando a quanto appreso, sarebbero in tutto quattro. Le fiamme gialle hanno effettuato una serie di accessi e perquisizioni, nell'ambito del nuovo filone d'inchiesta che, stando a quanto appreso, riguarderebbe i lavori di ristrutturazione dell'oratorio Don Bosco, gravemente danneggiato a seguito del terremoto del 2009. Agli inizi dello scorso anno, Riga, che aveva anche la delega all'urbanistica, aveva rassegnato le dimissioni a seguito dell'inchiesta ad Autodes, sempre relativa ad appalti per la ricostruzione post-sisma. La scorsa estate, invece, il Tribunale dell'esame di Roma ha revocato gli arresti domiciliari per il vicepresidente dell'Aquila Calcio, Massimo Mancini. Mancini era stato arrestato, insieme ad altri due imprenditori, il 13 luglio con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta, nell'ambito di un'inchiesta riguardante i lavori di ampliamento della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, tutti fatti comunque risalenti al 2004. Con i connotati della vicenda giudiziaria, che inevitabilmente verranno chiariti nelle prossime ore, resta il fatto di un nuovo colpo per la città, che faticosamente cerca di rialzarsi a ormai sei anni e mezzo dal sisma. Un operario di 59 anni di San Vincenzo, Valle Roveto, in provincia dell'Aquila, è morto in un incidente sul lavoro in località San Giovanni Nuovo, nei locali adibiti allo smaltimento dei rifiuti della società GEA. Secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un compattatore di rifiuti. L'allarme è stato dato da un dipendente che al momento dell'incidente era proprio con la vittima. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Un anziano di 78 anni è morto oggi all'ospedale di Pescara in seguito ad una caduta dal balcone. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Colle Paradiso a Pescara. Il 78enne sarebbe precipitato dal balcone della sua abitazione al secondo piano facendo un volo di 6-7 metri. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona. La moglie dell'anziano era in garage. L'uomo, che era cosciente, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Successivamente è morto per le lesioni riportate. Gli agenti della squadra volante della questora di Pescara si stanno occupando degli accertamenti. E poi condanna a 18 anni di reclusione e interdizione di 5 anni dai pubblici uffici per omicidio volontario. E la sentenza a carico di Giuseppe Martella, 57 anni, di Vasto, ritenuto colpevole della morte della compagna Daniela Marchi, allora appunto 53enne. Lo ha stabilito il GUP Caterina Salusti del Tribunale di Vasto, dove si è svolto il processo con rito abbreviato a porte chiuse. A rappresentare la pubblica accusa in aula c'era il procuratore capo Giampiero Di Florio. E ora parliamo del Consiglio regionale di oggi, dove si è registrato un aspro botta e risposta tra maggioranza e opposizione sulla realizzazione della piattaforma Ombrina Mare. Dure le reazioni e gli scambi di accusa anche in Consiglio regionale d'Abruzzo, dopo il sostanziale via libera di ieri a Roma, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla piattaforma petrolifera con annessa nave di prima raffinazione Ombrina Mare 2, che sorgerà a poche miglia dalla costa a Tettina. Per il centro-destra il PD ha solo fatto finta di opporsi, visto che il governo di Matteo Renzi procede spedito verso la petrolizzazione dell'Adriatico. Sapevamo che sarebbe finita così, basta leggere i quotidiani questa mattina o fare un giro sui siti web per capire che cosa abbiamo già detto. Cioè esiste un PD cattivo che è quello romano, che è Renzi e i suoi vari ministri, e c'è un PD buono che è quello abruzzese. Invece non è vero perché anche la stragrande maggioranza del PD abruzzese, a cominciare per esempio dall'onorevole Amato, dal sindaco di Ortone, potrei continuare in elenco, era favorevole a Ombrina. Replica con durezza il centro-sinistra, ricordando che è stato il governo Berlusconi a dichiarare l'Abruzzo regione strategica per l'estrazione di idrocarburi. E comunque assicura il consigliere Camillo D'Alessandro, la partita non è affatto chiusa. Io credo, anche leggendo un po' il verbale, gli stralci che mi sono arrivati, credo che il funzionario del ministero abbia commesso un errore proprio nella procedura, che paradossalmente, se giusto quello che io ritengo, ha affossato quel sì, di oggi diventerà un no tra breve. Cioè non appena noi impugneremo al TAR con il sistema agli enti locali, ma come in Regione Abruzzo, quel provvedimento non tiene conto di leggi che sono nell'ordinamento perfettamente legittime, non diventano legittime fino a quando un organo superiore le dichiara incostituzionali. Interviene anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, oggi presente in Consiglio regionale. Centrodestra e centrosinistra, ricorda, potevano fermare Umbrina Mare, approvando un emendamento che proibisce la realizzazione di piattaforme entro le 12 miglia dalla costa. Un governo di affaristi, si chiamano essi del PD o del PDL, non poteva che fare questo. Sono affaristi e favoriscono i petrolieri. Tutto quello che fanno le istituzioni locali sono chiacchiere. Si poteva fare già l'anno scorso con un emendamento del sottoscritto, ma anche di altre forze politiche che sono stati bocciati. Nella legge di stabilità si ripresenterà un emendamento che può bloccare Umbrina. Quindi se ci sono un segnale reale, il segnale reale si fa schiacciando un bottone e votando quell'emendamento che blocca Umbrina. Dopo il sì del Ministero, proprio al progetto Umbrina Mare, si prepara una nuova battaglia legale per le associazioni ambientaliste. È già pronto il ricorso al TAR. L'Abruzzo può ancora sperare per un no definitivo. Un epilogo inatteso e che ha suscitato l'ira di tutti. Ambientalisti, istituzioni, regionali e schieramenti politici. Di ogni versante, il nulla osta alle trivellazioni petrolifere. E oggi, a poche ore dall'annuncio, gli ambientalisti iniziano la nuova battaglia. Ancora una speranza resta per l'Abruzzo. Beh, è un atto di arroganza del Ministero. La battaglia però non è persa, perché in realtà ancora non esce il decreto definitivo. Certo, ieri si è segnato un punto a favore dei petrolieri inglesi dell'Arocopper che vogliono colonizzarci il mare della costa dei Trabocchi. Noi lo contrasteremo, continueremo a contrastarlo e noi invitiamo i cittadini non solo a abbassare la guardia, ma a moltiplicare gli sforzi. Perché in realtà hanno grossi problemi a imporre questa deriva in un mondo che sta andando in un'altra direzione. Proprio ieri la Società Meteorologica Mondiale ha lanciato un allarme addirittura che se noi continuiamo a usare combustibili fossili il nostro pianeta diventerà inospitale per le future generazioni, ha detto proprio inospitale. Volontà popolare ignorata, non è bastata una legge regionale né l'istituzione di un parco marino protetto per fermare il piano Ombrina una battaglia che l'Abruzzo ha sostenuto studiando tutte le possibilità. Ci aspettiamo invece i risultati della via giudiziaria. Il VUF ha già presentato un ricorso al TAR contro il decreto che ha aperto la via a questa convenzione di servizi e stiamo valutando con i nostri avvocati se proseguire sulla via giudiziaria anche con eventuali denunce. Perché questa situazione è assolutamente irreale. C'è un governo che non tiene conto della volontà popolare, che non tiene conto della scelta di nove consigli comunali unanime, di un consiglio regionale unanime. Veramente sembra una follia, sembra di vivere in un incubo. Credo che neanche nelle peggiori dittature accada in questi termini la volontà popolare, persino le dittature la rispettano di solito. Tornando al Consiglio regionale, nel pomeriggio riunitosi in sessione straordinaria per discutere dell'avvertenza dell'azienda Maiella Morrone, l'Assemblea ha approvato all'unanimità un documento che impegna il governo regionale e il Consiglio regionale a intraprendere azioni di tutela nei confronti dei lavoratori della società stessa al fine dell'erogazione di tutte le mensilità arretrate, della tutela dei livelli occupazionali necessari all'erogazione dei servizi socioassistenziali. E ora cambiamo pagina, la cronaca giudiziaria in attesa della Cassazione diversa delle iniziative a Roma per riflettere sul processo Grandi Rischi, partito con delle condanne e ribaltato in appello. Il 19 novembre il processo ai sette componenti della Commissione Grandi Rischi andrà in Cassazione per il terzo grado di giudizio. Sarà dunque la quarta sezione penale della Corte Suprema a ripercorrere ciò che accade all'Aquila in quella tristemente nota riunione del 31 marzo del 2009 dopo sei giorni soltanto la scossa mortale. Durante questa riunione gli esperti della Commissione, secondo le accuse confermate in primo grado ma poi smentiti in appello con sei assoluzioni e una condanna ridotta diedero delle rassicurazioni ai cittadini aquilani generando un comportamento e decisioni che poi hanno portato alla morte di tanti, troppi. È stata l'avvocato Maria Grazia Piccinini, mamma di Daria Rambaldi una delle tante vittime del sisma aquilano a promuovere a Roma un dibattito in programma il 13 novembre dal titolo verso la Cassazione. Il 19 novembre invece, prima dell'inizio del processo in piazza Caburra a Roma ci sarà un flash mob, bianco e innocenza, un fiore per la giustizia. Un processo, quello alla Grandi Rischi, che ha assunto una connotazione internazionale in quanto ritenuto in modo completamente sbagliato un processo alla scienza, dato che alla riunione presero parte autorità scientifiche che avrebbero potuto evitare la catastrofe semplicemente mettendo in allerta i cittadini partendo sempre dal fatto che un terremoto non si può prevedere. Tanti relatori che prenderanno parte al convegno tra questi anche gli avvocati di parte civile Bagna della Vigna e Antonio Valentini quest'ultimo autore del primo esposto che ha dato il via libera all'inchiesta. Ed ora parliamo del processo Bussi-Bis La contaminazione in prossimità della falda era tale da evidenziare una compromissione che non avevo mai riscontrato prima in altri siti nel corso della mia esperienza. Sono le parole di Luca Lucentini uno dei tre esperti dell'Istituto Superiore di Sanità che questa mattina è stato ascoltato dal GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco durante l'udienza del processo uno stralcio del filone processuale principale legato alla scoperta della discarica nel 2007 a Bussi sul Tirino. Lucentini ha perso la parola oggi in tribunale insieme ad altri due esponenti dell'Istituto Superiore Massimo Ottaviani e Pietro Comba il parere dei tre esperti che hanno partecipato alla stesura della direttiva comunitaria. I tre esperti sono stati poi sottoposti ad un breve contraddittorio con i legali della difesa il GUP Sacco infine ha calendarizzato le prossime udienze il 24 novembre si terrà un'udienza interlocutoria che potrebbe richiedere una nuova audizione del perito della difesa Lino Prezioso il 16 dicembre inizierà la discussione con le richieste delle PM e delle parti civili e se ci sarà tempo con le prime arringhe della difesa il 12 gennaio infine verrà completata la discussione e sarà emessa la sentenza. Secondo i dati delle forze dell'ordine calano i casi di criminalità sul territorio abruzzese e arriva l'invito alla calma per il fenomeno di allarmismo scattato tra i cittadini che minacciano di difendersi da soli Un allarmismo non giustificato dai dati una voce corale quella delle forze dell'ordine che invitano a non esasperare notizie di cronaca inerenti furti e criminalità se ultimamente si fa un gran parlare di casi di rapine spesso con in casa i proprietari dall'altra il bilancio resta un netto calo di tale fenomeno I dati ci confortano sono molto confortanti sicuramente questi dati non possono essere voglio dire opposti a dei cittadini che hanno comunque vissuto anche delle forme di violenza aberranti furti in appartamento ma anche rapine in appartamento grazie a Dio è un fenomeno che da noi non viene molto conosciuto però sicuramente dobbiamo fare il meglio Si diffonde intanto la notizia di cittadini che costituiscono gruppi per la tutela dei propri quartieri fin anche la promessa di farsi giustizia da soli un fenomeno dettato dalla scarsa percezione di sicurezza ma le forze dell'ordine tranquillizzano sui dati e invitano alla calma i più preoccupati L'alarme sociale viene determinato da una serie di circostanze viene determinato dalla conoscenza dei fatti che avviene tramite i giornali tramite le televisioni e quindi si può avere una percezione della sicurezza molto bassa ancorché appunto i dati siano confortanti per questo non mi piace molto parlare dei dati anche se sono a nostro favore perché anche un solo reato anche un solo furto per noi carabinieri deve essere un'allarme Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha presentato il progetto di legge per l'istituzione di un osservatorio della legalità finalizzato a contrastare il fenomeno della microcriminalità e delle infiltrazioni mafiose in Abruzzo L'Abruzzo non è più da tempo un'isola felice le mafie sono ben presenti e interi territori sono prede sempre più in difese di furti usure e tanti episodi di illegalità e violenza Nasce da questa consapevolezza e da questa emergenza non più da sottovalutare la proposta di legge del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che intende istituire un osservatorio per la legalità composto da cinque consiglieri due di maggioranza, due di opposizione uno espresso dall'Aggiunta regionale e che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle associazioni antimafia, anti-racket e anti-usura delle organizzazioni, dei commercianti e degli imprenditori suo compito sarà quello di raccogliere segnalazioni ed elaborare proposte e iniziative legislative con l'obbligo di presentare ogni anno una relazione dettagliata sui dati acquisiti l'attività svolta, le proposte e progetti elaborati è chiaro ed evidente che questa struttura ha la necessità di valutare alcuni fenomeni che su alcune parti di questo territorio ormai da troppo tempo avvengono parliamo soprattutto del sud dell'Abruzzo soprattutto nell'area da dove arrivo io ma parliamo anche dell'Aquilano è fin troppo evidente dai titoli dei giornali ciò che accade da troppo tempo le infiltrazioni mafiosi e camorrische in questo territorio ormai sono un dato certo sono una realtà occorre creare un osservatorio che le verifichi e le analizzi è importante sottolineare come ciò verrà fatto attraverso dei tavoli di lavoro continui con le associazioni di categoria che conoscono questo fenomeno meglio di altri parliamo delle associazioni antimafia associazioni antiracket il tavolo servirà continuamente tutto l'anno a verificare esattamente ciò che può essere fatto attraverso dei convegni per portare a conoscenza dei cittadini la funzione della regione attraverso il controllo ma soprattutto creare la cultura della legalità dentro questa regione noi stiamo parlando della legalità stiamo parlando di infiltrazioni mafiose e camorristiche è questo che la regione deve controllare la regione Abruzzo non è più esente da queste infiltrazioni non esiste solo in campagna non esiste solo in Calabria in Sicilia o in Puglia ormai esistono anche da noi in Abruzzo nella mia terra da dove arrivo io ormai da mesi abbiamo le negozi bruciati auto bruciate colpi di pistola contro le vetrine dobbiamo ancora credere che siano fenomeni casuali o fenomeni estemporanei della giornata? non credo probabilmente dietro c'è qualcos'altro qualcuno deve controllare e verificare l'economia dell'Abruzzo è in netto miglioramento è quanto emerso dall'alarme congiunturale realizzato da Banca Italia nella prima parte del 2015 l'attività produttiva ha fatto registrare in Abruzzo un recupero in tutti i principali settori l'occupazione è aumentata in particolare nell'industria le condizioni creditizie hanno mostrato un graduale miglioramento nel settore della produzione sicuramente noi facciamo un'indagine sul congiunturale si chiama appunto che valuta dei questionari che somministriamo agli imprenditori e il 60% degli imprenditori dice che per esempio il fatturato è cresciuto e solo un 20% sostiene il contrario quindi il che vuol dire che la maggior parte degli imprenditori pensa che ci sia anche un futuro più roseo nella sostanza da questo è emerso anche un dato positivo per quanto riguarda l'occupazione? esatto sì c'è un dato positivo per quanto riguarda l'occupazione è un dato il 3,4% che è sicuramente un dato insomma di un certo rispetto dati positivi avete detto anche sulle condizioni creditizie davvero è cambiato il rapporto tra banche imprese e famiglie? ma questo è un rapporto diciamo che risente delle situazioni che via via si verificano le banche hanno avuto una serie di problemi si sa che sono state in difficoltà nel periodo del post Liman Bradar e quindi c'è stato una serie di inconvenienti che l'hanno costretto a restringere il credito sono tornati a crescere comunque i finanziamenti alle imprese di maggiori dimensioni ma non alle piccole e medie imprese sì questo perché? è questo perché le piccole e medie imprese trovano sempre difficoltà anche nel rapporto con gli istituti di credito perché le garanzie si vogliono ovviamente gli istituti di credito vogliono garanzie e non è facile che le piccole aziende siano in grado di fornire queste garanzie le associazioni di categoria abruzzesi in accordo con la riforma della pubblica amministrazione hanno firmato un documento congiunto finalizzato all'avvio di un percorso che vedrà la fusione di tutte quelle funzioni svolte parallelamente da diverse associazioni le associazioni di categoria regionali si uniscono nella sottoscrizione di un documento congiunto riguardante la riforma della pubblica amministrazione si parla del riordino delle partecipazioni pubbliche e la riforma dei servizi pubblici locali la riforma la riforma amadia punta all'efficientamento e la razionalizzazione della macchina amministrativa in poche parole tutto si riconduce ai tagli della spending review che sembra trovare d'accordo tutti i sottoscriventi noi sosteniamo che la riforma amadia sia una buona riforma che vada calata sul territorio in maniera intelligente cosa intendiamo per tale intendiamo che il riparto degli enti da riorganizzare sia fatto in maniera equanime su tutto il territorio regionale liberare risorse evitare i duplicati di funzione e puntare ad una visione globale senza campanilismi ecco perché tra gli intenti c'è quello dell'urgenza di riordino per gli enti camerali quello che più ha indugiato a concludersi dal suo avvio come categorie naturalmente abbiamo messo l'accento sulle camere di commercio perché sono quelle che per legge vengono amministrate in qualche maniera dalle categorie produttive cosa importante si parla di un accorpamento per cercare poi di liberare risorse il che significa di avere potenzialità per l'investimento di far ripartire un comparto che è molto complicato in questo momento esattamente questo è la finalità che del resto è la stessa legge madia che si è posto alcune competenze sono delle duplicazioni e quindi assolutamente inutili che vanno ricondotte ad un unico centro decisionale in maniera tale appunto per liberare risorse destinare ad investimenti è dedicato all'arte e al legname perdona al legame con i cittadini l'edizione del prossimo calendario dell'arma dei carabinieri è bastato inserire una pattuglia di carabinieri nel paesaggio solare immaginato dal pittore francese per infondere quel profondo senso di sicurezza e serenità che la vigilanza dell'arma da sempre trasmette alle nostre comunità per la presentazione del calendario 2016 dell'arma dei carabinieri in primis il legame importante che c'è con i cittadini sì il legame con i cittadini e anche il legame con l'arte quest'anno l'arma dei carabinieri ha presentato un calendario storico che fa riferimento a 12 tavole per cui vuole enfatizzare il comando della tutela patrimonio artistico che è stato istituito già da oltre 9 lustri per tale motivo le tavole quest'anno rappresentano essenzialmente delle opere delle opere molto note di pittori anche famosi tipo Van Gogh ai quali è stata fatta un'elaborazione grafica di tipo digitale inserendo dei soggetti che sono dei carabinieri carabinieri conosciuti dalla gente carabinieri in pattuglia e i carabinieri tra la gente dal 1814 che l'istituzione esiste ha compiuto l'anno scorso 200 anni e quindi il motivo per il quale l'arma dei carabinieri ancora esiste come organizzazione di polizia e forza di polizia in Italia sta a significare l'amore che i cittadini riversano nei confronti dell'istituzione e anche la consapevolezza che come forza di polizia radicalmente estesa nel territorio con le sue stazioni la popolazione ritiene che sia ancora in grado di far fronte alle loro esigenze la città di teramo incrementa il sistema di videosorveglianza con altre 21 telecamere grazie al progetto sicuramente in città altre 21 telecamere si andranno a aggiungere alle 15 già esistenti nella città di teramo per maggiore sicurezza e controllo quali saranno i nuovi punti? si saranno adesso ne sono 21 sono tutto il centro storico anche le zone periferiche di teramo via Polo la stazione San Nicolò e altre zone di teramo quello che ci premeva è raggiungere questo obiettivo perché ci permetterà di controllare meglio il nostro territorio soprattutto nel centro storico dove negli anni sono successi diversi episodi soprattutto a piazza San Dan piazzetta del Sole e altre parti della città il progetto parte con mille occhi sulla città ma il progetto attuale è sicuramente in città diciamo già col vecchio progetto il comando di polizia municipale a volte riuscite a individuare alcune fatti specie di reato non ci scordiamo che ha dato una forte collaborazione alle altre forze di polizia che diciamo con cadenza settimanale quando i marchi comunque erano efficienti e stavano al massimo venivano giù per estrapolare immagine e quindi in molti casi sono stati individuati gli autori del reato il controllo delle immagini registrate dalle telecamere sarà fatto da tutte le forze dell'ordine? la polizia municipale in primis e la questura come era già previsto dal vecchio progetto per quanto riguarda la privacy la presenza delle telecamere come sarà segnalata? sì con il solito cartello che possiamo già vedere attualmente che è un cartello verticale particolare perché sta proprio è raffigurato un omino della polizia municipale che guarda un monitor e quello è appunto quello che prevede la normativa sulla privacy non saranno però segnalati i punti dove ci saranno telecamere nascoste per quanto riguarda l'individuazione di chi purtroppo butta ancora la spazzatura per strada quello è un altro discorso però ecco le comunicazioni verranno sempre date con altre modalità dopo le tante polemiche dal giorno dell'installazione dei varchi nella ZTL di Teramo questa mattina si è svolta la riunione tra la ditta che lì gestisce e l'amministrazione comunale si è svolta questa mattina la tanto attesa riunione convocata dal comune di Teramo tra l'amministrazione comunale e la ditta incaricata alla gestione dei varchi che delimitano il centro storico di Teramo un incontro importante sottolinea il primo cittadino Maurizio Brucchi che risolverà i tanti problemi che sono emersi dall'installazione dei varchi elettronici abbiamo raggiunto un accordo e questa era già nelle cose però oggi abbiamo definito anche le modalità del rimborso per cui la ditta risarcirà il comune per quanto riguarda le multe non dovute e poi i cittadini verranno risarciti e questo avverrà entro la fine dell'anno poi si apre tutto il discorso invece del comune nei confronti della società per tutta una serie di altri aspetti che però avremo qualche settimana in più di approfondimento per arrivare poi a quello che deve essere il componimento di tutta questa situazione io ho ribadito che è innegabile che in questo avvio di nuovi varchi dei problemi ci sono stati è inutile mettere fare come lo struzzo che metterà sotto la sabbia e anche loro lo hanno riconosciuto a oggi i varchi sono controllati 24 ore su 24 da remoto sono stati tutti verificati e quindi diciamo problemi non ce ne dovrebbero essere più abbiamo chiesto di posizionare un orologio e entro la fine dell'anno verrà posizionato un orologio in modo che il cittadino potrà vedere e leggere l'orario in cui entra in modo che non deve stare a guardare il proprio orologio che può sfalsare di un minuto o di due minuti e quindi vedersi poi arrivare una sanzione le cause sono state diverse sono stati sbalzi di tensione sono stati problemi di energia elettrica sono stati problemi anche di alimentazione per quanto riguarda le linee telefoniche insomma diversi problemi e ora la pagina sportiva parlando subito di Pescara che ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della gara di domenica a Como squadra ultima in classifica ma il Pescara sarà in emergenza un'emergenza che potrebbe in gran parte rientrare se ci fosse il recupero del difensore Ugo Campagnaro che oggi ha svolto corsa durante tutta la seduta di allenamento c'è ancora speranza di poterlo recuperare ma insomma saranno i prossimi due giorni particolarmente indicativi sul fatto che Campagnaro possa essere a disposizione del tecnico Oddo che dovrà rinunciare già a Abunoza infortunato a Fornasier che è squalificato è stato squalificato oggi dal giudice sportivo per un turno poi mancheranno anche i nazionali Under 21 Verre e Mandrago Memushai che deve ulteriormente scontare un turno di squalifica insomma tanti tanti gli assenti e si cerca se non altro di forzare un pochino il rientro di Campagnaro Oddo intanto oggi prima di riprendere gli allenamenti ha parlato ed è tornato sulla sconfitta con la Ternana C'è sicuramente da migliorare e da maturare quando sei consapevole del fatto che hai partite tra virgolette più alla mano perché dico tra virgolette perché partite più alla mano non ci sono ma non è che lo dimostrano le nostre partite lo dimostrano anche altre partite perché perché se andiamo a vedere le partite di questo campionato sono veramente strane ieri il Protona ha vinto 3-1 io ho visto il primo tempo se finiva 3-0 per la Vedini non c'era nulla da dire quindi è un campionato veramente stranissimo la Ternana vince in casa con il Bari 3-0 poi ne prende il 3-0 quindi è un campionato molto strano e siccome i valori sono molto livellati l'aspetto mentale secondo me incide tantissimo e sotto questo punto di vista noi dobbiamo crescere fortemente non che io non gliel'abbia detto perché io mi sono raccomandato mille volte del fatto che ci sarà ci saranno ancora tante di queste squadre che si verranno a chiudere a Pescara ma noi dobbiamo avere cioè noi non dobbiamo dobbiamo migliorare sotto il punto di vista del fatto che a volte ci adagiamo su quello che succede in campo cioè nel senso è difficile da spiegare andiamo per inerzia su quello che anche gli avversari stabiliscono di fare invece lì dobbiamo fare il salto di qualità cioè noi vogliamo fare un certo tipo di gioco ci sono squadre che te lo possono impedire tipo il Novara tipo il Novara tipo la Ternana tipo la Provercelli e in queste circostanze tu devi 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 sapere anche fare un tipo di gioco diverso ecco perché il giocatore è pensante nel senso noi lavoriamo molto su questo aspetto cioè del fatto che noi a volte ci dobbiamo adattare a quello che non ci consentono di fare gli avversari e quindi sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare dobbiamo lavorarci ma è anche un aspetto tecnico non è solo un aspetto mentale ma io credo che non si possa giudicare la partita di domenica perché fino all'espulsione fino all'espulsione tutta la squadra stava giocando male quindi non è che puoi considerare il fatto di prendere ad esame un solo giocatore ma devi prendere ad esame tutta la squadra e come al solito se è vero che la squadra che il singolo si metta a disposizione la squadra è anche vero che quando la squadra non ti aiuta anche il singolo fa fatica sul fronte Virtus Lanciano queste sono ore di attesa ore in cui si cercherà di capire se ci sarà la deroga affinché la Virtus possa giocare in casa allo stadio Guido Biondi le prossime partite casalinghe del campionato di Serie B altrimenti la squadra sarà costretta ad emigrare allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara dove giocò le prime partite casalinghe in cadetteria le prime partite della storia dopo la promozione appunto in Serie B intanto la squadra ha ripreso gli allenamenti al Memmo ha lavorato in maniera differenziata l'attaccante Manuel Turchi invece è rimasto fermo per un lieve fastidio muscolare il difensore Federico Amenta domenica invece non ci sarà sicuramente il centrocampista Fabrizio Paghera che era in diffida ed è stato ammonito a Perugia dunque è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo domani doppia seduta in vista della gara appunto contro il crotone di domenica prossima e sempre domani la Virtus Lanciano sarà presente alla casa circondariale di Lanciano per assistere alla partita detenuti con figli e contro detenuti senza figli ne parleremo poi più diffusamente anche di questa iniziativa nel corso della trasmissione di domani Virtus Style di Alessio Gian Cristofaro parliamo ora di Lega Pro intanto con le decisioni del giudice sportivo che ha inflitto un'ammenda di 3.000 euro al Teramo Calcio e ha squalificato per tre giornate il difensore Marco Perrotta espulso nella gara di domenica scorsa contro l'Arezzo c'è anche la designazione arbitrale del derby di sabato pomeriggio al fattore dell'Aquila tra l'Aquila e Teramo Niccolò Pagliardini di Arezzo dirigerà l'incontro coadiuvato da Claudio Pellegrini di Roma 2 e Antonio Santoro di Roma 1 domani il Teramo scenderà in campo alle ore 19 con tante riserve seconde linee o giocatori anche delle giovanili contro la lupa Castelli Romani fischio d'inizio alle ore 19 da parte del signor Riccardo Panarese di Lecce ma le attenzioni restano focalizzate sul campionato come capiamo anche dalle parole dell'attaccante Stefano Moreo direi benissimo perché alla fine sembrava che eravamo 11 contro 11 che siamo nel secondo tempo quando siamo entrati in campo abbiamo fatto praticamente la partita noi l'uomo in meno non si è sentito potevamo evitarlo comunque perché magari la partita prendeva una piga diversa però è andata bene comunque siamo riusciti alla fine a raggiungere il pareggio quasi a tempo scaduto il nuovo modulo si comunque io a una punta davanti ci ho giocato l'anno scorso anche metà dell'anno prima quindi è un modulo che conosco e sono sicuro che possiamo far bene con questo modulo si è visto anche comunque domenica sì sarà una gara comunque difficile perché l'Aquila se sbaglio viene da una sconfitta brutta col Pisa quindi avranno voglia di riscatto e anche noi per questi due punti che per dubbi e scelte arbitrali anche per un po' di colpa nostra abbiamo perso quindi dobbiamo preparare meglio questa partita per fare una grande gara e cercare di portare a casa il risultato con l'Aquila Teramo 0-1 o l'ultimo Reo che faresti? quello sicuro sarebbe sarebbe bello però vediamo come affrontiamo la partita dobbiamo scendere con la mentalità giusta in campo poi il risultato si vedrà nel corso della partita e ora parliamo di Serie D in particolare del Cheti perché quella di oggi è stata una giornata per certi versi campale intanto sotto il profilo tecnico perché il patron Pomponi e tutta la dirigenza hanno voluto incontrare lo staff tecnico e la squadra una riunione per confrontarsi dopo le ultime due sconfitte in particolare l'ultima a Isernia prestazione bruttissima della squadra neroverde ebbene tra le decisioni prese dal patron Pomponi quella di far allenare la squadra questa settimana fino a venerdì tutti i giorni alle ore 6.30 della mattina tenendo a precisare il patron Pomponi ci ha tenuto a precisare dunque che non si tratta di una punizione nei confronti dei giocatori ma si vuole far capire loro il significato delle parole lavoro e fatica in considerazione del fatto che essere giocatori di calcio è sinonimo di privilegio inoltre la società ha ribadito la piena fiducia a tutto lo staff tecnico e alla squadra certa di ottenere immediatamente un segnale di cambiamento ma giornata importante anche sotto il profilo della Querelle che è ripresa con il comune di Chieti nonostante ci fosse stata quella conferenza stampa quasi di pace o comunque di tregua forse è meglio dire di tregua visto quello che è successo ieri e quello che è successo oggi ieri il comunicato del comune del sindaco di Primio che parlava di quattro punti da chiarire prima di passare alla concessione alla convenzione per l'utilizzo dello stadio Angelini con la Chieti Calcio oggi la risposta della Chieti Calcio e del patrono Pomponi che ha annunciato di rinunciare ufficialmente alla convenzione per l'utilizzo appunto dello stadio Angelini poiché questa società si legge nella lunga nota è intenzionata a fare calcio e a non prestarsi a giochi politici è preso atto del fatto che le carte in tavola sono cambiate ancora una volta quindi di nuovo un passo indietro verso appunto la convenzione che a questo punto non ci sarà perché c'è la rinuncia del Chieti dopo il comunicato di ieri del comune chiudiamo con un ultimo servizio cambiando disciplina parlando di Jiu Jitsu medaglia d'argento nei recenti Open di Londra per Giuseppe Tivolesi atleta di una società sportiva di Orsogna Prosegue l'ottimo momento di Giuseppe Tivolesi lottatore del team Spartan Brazilian Jiu Jitsu di Orsogna che dopo aver conquistato nelle scorse settimane una fondamentale medaglia d'argento nel London Fall Open 2015 si prepara per il nuovo anno al torneo europeo di Lisbona è stata una bellissima esperienza una gara internazionale dove veramente c'erano i migliori atleti in Europa e io sono andato per fare sicuramente per dare il meglio di me e fare una buona gara poi grazie anche alla preparazione atletica e a tutto il lavoro svolto del team con il mio istruttore sono riuscito a fare veramente una buona gara e sono arrivato alla finale una finale veramente combattuta e ho riportato un argendo un argendo da Londra che per me veramente è importantissimo ma più che altro importante per il team e per il lavoro che lavoro svolto per questa medaglia la preparazione è stata davvero dura perché comunque tra i vari impegni di lavoro che abbiamo sia io sia l'amico Giuseppe è andato avanti nel migliore di Modico riportando un bel risultato in una gara importante di livello tecnico molto elevato abbiamo lavorato un sacco sugli aspetti tecnici del Brasilia Giugissu abbiamo curato molto quello stile personale che ha Giuseppe di modo da affrontare nella maniera migliore gli avversari prossimi obiettivi abbiamo probabilmente a fine novembre ci sarà il Milano Challenge che è considerata una delle gare di maggior rilievo sul territorio nazionale italiana e molto probabilmente all'inizio dell'anno nuovo avremo il torneo europeo ufficiale della IBJJF la Federazione Internazionale di Brasilia Giugissu che si terrà Lisbona in Portogallo vi ricordo il doppio appuntamento di questa sera legato agli approfondimenti di Lega Pro sarà una settimana particolare dunque una doppia puntata particolare perché si va verso il derby del fattori dell'Aquila tra l'Aquila e Teramo quindi non perdete all'ore 21 pro Teramo con Jacopo Forcella e poi a seguire pro l'Aquila con Giulio Nardi si farà il punto della situazione in vista di questo derby dove insomma le due squadre arrivano non al massimo dopo i risultati conseguiti nell'ultima domenica per la seconda edizione del TG6 è davvero tutto grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la seconda edizione